In genere siamo abituati a vedere queste esibizioni nei programmi che le esibono, ma quest'oggi il nostro maluardo ha deciso di esibirsi qua, nel suo posto di lavoro, mettendo a due le pentaglie la sua vita. Prego, Alessandro Frassetti. Allora, un chicco. Poi regurgiterà tutto, eh. Veloce. Due. Tre, sono il record del quattro, potrai anche superare il record arrivando a cinque chicchi. No, no, attenzione, 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 no. Non sei per regurgiterà. È fallita la missione, attenzione, c'è fallita. Tutto a rifare.